Il docente agrigentino Mosè Monachino sostiene che gli attuali impianti di depurazione non ne siano sicuri e ha brevettato lui un nuovo sistema di depurazione efficace anche in termini di economia circolare. I dettagli nell'intervista di Gaetano Ravanà. Professore Monachino, secondo i suoi studi, ma secondo anche l'Unione Europea, gli impianti di rete fognaria attualmente in vigore sono altamente inquinanti, malgrado il lavoro che svolgono. Lei ha brevettato invece qualcosa di nuovo? La cosa importante è che oggi si usano solo ed esclusivamente depuratori di acque reflue civili. Allora, queste acque reflue civili depurate creano un inquinamento molto importante che con la digestione aerobica immettono nell'atmosfera molto biogas e anidride carbonica per cui noi abbiamo ideato un impianto che non è più un impianto di depurazione ma è un impianto di trasformazione le acque reflue in energia e economia circolare. L'economia circolare perché si può pure guadagnare in pratica. Esatto, il nostro impianto trasforma le acque reflue in biogas, in acqua con gime, in biomassa e raccolta di plastica. Infatti lei diceva che è possibile praticamente lavorare qualsiasi tipo di materiale. Esatto, tutti i tipi di rifiuti geotecnici, rifiuti da puzzineri e acqua e reflue e anche di giardinaggio.